Il cantutore Salentino non si reca a Domenica Live perché ha avuto un malore Barbara Durso era in attesa di ospitare il cantautore di Cellino San Marco a Domenica Live, il contenitore di Canale 5. Ma a quanto pare, la puntata odierna è stata rovinata prima della sua partenza Infatti come ha appena annunciato lei di Cologno al Tg5, il cantautore Salentino Albano Carrisi che doveva andare negli studi di Cologno sarebbe saltata Il motivo? L'ex marito di Romina Power si è sentito male Barbara Durso annuncia che Albano Carrisi si è sentito male Barbara Durso ha rivelato alla giornalista del telegiornale che Albano Carrisi si trovava fuori Italia quando è stato colpito da un malore Per il momento non si conoscono le sue condizioni di salute Ricordiamo che il maestro in passato è stato colpito da due infarti, una lieve ischemia cerebrale e da un edema vocale Vi aggiorneremo più tardi per le condizioni di salute del cantautore pugliese Grazie a tutti Grazie a tutti